ciao e benvenuta sono molto contenta che tu abbia deciso di guardare questo mini corso e innanzitutto voglio farti tanti auguri perché se hai deciso di guardarlo è perché ti sei fidanzata e deciso di sposarti e quindi come prima cosa voglio farti tantissimi auguri per questa bella notizia ho deciso di creare questo corso per aiutarti a organizzare il tuo matrimonio in modo facile veloce e per aiutarti a tenere magari un pochino sotto controllo l'ansia questo salotto si chiama wedding lounge l'ho voluta chiamare così proprio come le sale degli aeroporti sai che di solito è la sala dove si siedono le persone che sono in business e la mia idea era proprio quella di coccolarti un po in questo piccolo salottino privato e qui sarà come fare una chiacchierata tra amiche in cui cercherò di darti i consigli che ho imparato con la mia esperienza affiancando le copie che ho seguito negli ultimi anni e la mia idea è quella di prepararti una sorta di valigia che tu possa poi prendere per questo viaggio che stai per affrontare con dentro alcuni consigli veloci alcune idee e anche alcuni piccoli trucchi che poi potrai utilizzare durante il viaggio sicuramente un po come tutti i viaggi ci saranno anche delle turbolenze nei momenti in cui magari sarai indecisa o avrai paura di non riuscire a controllare tutto quello che voglio dirti è comunque di stare tranquilla perché sarà una bellissima occasione che ti avvicinerà ancora di più al tuo futuro marito perché organizzare il matrimonio vi permetterà di stare insieme molto tempo di prendere delle decisioni spesso magari sarete anche un po in disaccordo ma è normale non preoccuparti di arrivare quindi al giorno del matrimonio avendo fatto anche questo percorso quindi il bello non è solo appunto la meta ma anche il percorso che farete insieme naturalmente poi diretti verso il giorno del sì che sarà sicuramente il giorno uno fra i più belli e emozionanti della vostra vita quindi la mia idea è proprio quella di riuscire ad accompagnarvi in modo tra virgolette discreto con qualche piccolo consiglio questo corso è strutturato in alcune lezioni dove cercherò di affrontare quelli che sono gli argomenti principali in maniera cronologica e facendo dei focus su quelli che ho visto siano gli argomenti che i miei sposi mi chiedono spesso cercando quindi di dare dei consigli proprio pratici e diretti bene benvenuta e niente ci rivediamo alla prossima lezione Grazie 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 a tutti.